Per voi la partita Aset non è del tutto chiusa, la fusione non ha messo la parola fine su questo capitolo? La fusione è stata la fusione tra Aset e Aset Holding, però ci sono voci di corridoi insistenti e c'è la stessa maggioranza che lo dice con una mozione che ci sono preoccupazioni rispetto alla possibile vendita di parte di questa società interamente pubblica al 100% il gioiellino di Fano alla multiservizio Adera e quindi torniamo all'inizio della legislatura del sindaco Seri che aveva l'idea di fare questa azienda provinciale insieme al sindaco di Pesaro e Adera, per cui su questo noi ci siamo battuti in maniera forte in consiglio comunale con gli altri consiglieri, abbiamo preso delle denunce e delle diffide ed insieme a una maggior parte dei consiglieri comunali e anche di maggioranza, si è riusciti invece a portare avanti la fusione e ad avere questo rafforzamento della società fanese in ambito anche provinciale. Per cui la consigliera Luzio ha presentato una mozione dove dice non siamo disponibili a vendere nulla di Aset, neanche in parte, con società che siano private, noi quella la sosterremo, anzi chiederemo di sottoscriverla e firmarla, perché è la stessa linea che abbiamo sempre tenuto in questi anni. Questo non è l'unico fronte aperto sul versante politico in questa legislatura, c'è anche una questione a fine legislatura che riguarda assessori, si vocifera di un rimpasto a vostro dire. Beh sì, voci di corridoio del palazzo dicono che ci sia in atto un rimpasto, anche perché la sconfitta elettorale che hanno subito come centrosinistra pochi giorni fa, comunque pesa e c'è invece un sindaco che in questo momento si sente forte delle sue azioni e quindi vorrebbe riportare quelle linee che dicevo prima, ad esempio fare un accordo provinciale con Aset, ma anche privatizzarla, ma anche privatizzare la sanità, come altro progetto che ci ha già illustrato, ad esempio Caruccia, che quindi sono due linee che non combaciano con la maggioranza però che ha. Quindi sicuramente ci sarà un rimpasto di giunta e ci chiediamo anche se c'è ancora una maggioranza Fano a questo punto, perché ce lo chiediamo in maniera insistente un po' tutti i consiglieri.